Fra le firme di artisti si annovera ad Arezzo nel tardo III secolo a.C., in un'Etruria ormai in fase di romanizzazione, quella apposta a crudo sul listello di base di una lastra fittile decorata ad alto rilievo con figure. Il frammento di lastra, che doveva ornare il tetto di un edificio, fu recuperato attorno al 1668 nel corso dei lavori per la realizzazione del convento dei Gesuiti. L'iscrizione testimonia l'adozione della lettera gamma per il suono K, tipica delle iscrizioni dell'Etruria meridionale come dimostrano l'alfabetario di via Roma nella sala 1 e l'iscrizione della chimera nella sala 2 del piano inferiore del museo. Questa lettera fu adottata anche ad Arezzo con la fine del IV secolo a.C., in sostituzione del K fino ad allora usato per il medesimo suono. Si legge Cnei, Urste, il nome è quello di un liberto, cioè una persona liberata dalla schiavitù. Questo liberto assunse il prenome Cnei, corrispondente del latino gneus, conservando come cognome il proprio nome greco di schiavo, Orestes, etruschizzato Urste. Cnei, Urste, faceva parte di quel ceto servile che deve aver costituito lo scheletro delle maestranze impegnate nella coroplastica retina di periodo ellenistico.